Aveva gli occhi vivaci ed un sorriso aperto Aldonaro, il giovane medico di San Cataldo che ha trovato la morte sette anni fa, il 14 febbraio del 2015, in una discoteca di Palermo, il Goa. Durante la festa di carnevale di San Valentino, Aldonaro era andato lì con degli amici e la fidanzata. Un vero e proprio pestaggio dove ha trovato la morte un ragazzo di 25 anni. Futili motivi dalle risultanze processuali, probabilmente erano spariti dai travestimenti, delle maschere. Per l'omicidio è stato condannato un giovane Andrea Balsano che aveva 17 anni, reo confesso, che ha lasciato il carcere nel 2020. Tre invece le condanne in appello per rissa aggravata ed intanto si è aperto un'inghiesta bis con tre indagati. La famiglia sostiene che vi siano ancora altre responsabilità.